Lavoro per il gruppo da molti anni ormai e non ho mai sentito la necessità di partire in quanto ho sempre avuto l'opportunità di cambiare, cambiare ruolo, per seguire i miei interessi. Mi chiamo Simone e mi occupo della ricerca e sviluppo delle applicazioni numeriche. In realtà non posso parlarvi di un progetto in particolare in quanto i progetti sono confidenziali, ma in ogni caso quello che preferisco nei progetti che faccio è l'idea di poter migliorare la vita di tutti i giorni dei collaboratori di Aegis. Ne è passata di acqua sotto i ponti. All'epoca la squadra era molto giovane. Diciamo che mi sono sentito circondato da persone molto competenti e con molti valori. Sono dinamici, pieni di energia e diciamo sempre fronti a passare dei momenti di convivialità insieme. Il mio capo è il miglior partner per lavorare sulle loro idee. Credo di far parte di coloro che sono fieri di lavorare ad Aegis, in quanto ho la possibilità di lavorare su dei grandi progetti che hanno un impatto sulle popolazioni e quindi avere la possibilità di controllare questi progetti dà un senso a quello che faccio. Domani spero di poter accelerare ancora di più le attività di ricerca e sviluppo per migliorare il controllo che abbiamo dell'impatto ambientale sui nostri progetti. Gli direi di venire a lavorare ad Aegis se ha voglia di cambiare le cose e di cambiarle per davvero. Grazie a tutti!